Sorteggio, ottavo di finale UEFA Champions League Juventus Porto Ciao Marcello, ciao a tutti i fratelli e sorelle Juventinazzi di Topland da parte del vostro postman ed ovviamente dell'unico, l'unico e solo talismano della UEFA Champions League il grande Andrea qui con me, abbiamo promesso il video per commentare il sorteggio di oggi, delle 12 e l'urna di mio, caro Andrea ci ha designato il porto, ce ne andiamo all'estadio D'Otragao uno degli stadi penso più belli che ci stanno in Europa quindi, quindi, allora noi caro Marcello snoccioliamo qualche statistica che adesso vi dice qui il caro Andrea e poi facciamo le considerazioni finali, vai Andrea E allora il Porto è una squadra molto giovane, una squadra che a mio parere io avendo la vista anche con la Roma comunque organizzata che corrono tutti e tecnicamente non male visto che comunque tutti ne parlano male esatto non è assolutamente esatto, allora era nella pletora delle squadre che noi speravamo di affrontare però è una squadra che va presa con le pinze da non sottovalutare esatto dunque secondi in classifica in Portogallo a 4 punti dal Benfica è una squadra che nelle ultime 10 volte che ha partecipato alla Champions 7 volte comunque è arrivata nella fase eliminazione esatta quindi comunque ha eliminato la Roma come abbiamo appunto detto poi comunque c'ha 3-4 giocatori secondo me da tenere, da prendere comunque con le pinze che è un attaccante classe 95, Andre Silva che comunque ha fatto già 4 gol in Champions poi c'hanno diversi giocatori bravi tra cui Hector Herrera che voleva prendere, gli stava dietro la stessa Juventus il Manchester United anche Brahimi, poi c'ha Maxi Pereira che stava a Rochac Tardons comunque è una squadra molto molto e poi che ha detto Nedved, caro Andrea? come ha detto Pavel in conferenza dopo il sorteggio ha detto una squadra da non sottovalutare come ad altronde io dico nessuna squadra in Europa che ha eliminato appunto la Roma è una squadra giovane che corre, tecnica e quindi comunque da prendere con le pinze tutti contenti che non hanno pescato la Juve soprattutto perché no allora noi, caro Marcello, noi chiaramente facciamo un grande in bocca al lupo a Napoli che ha pescato la squadra campione in carica io penso che Napoli-Real Madrid al San Paolo sarà uno spettacolo uno spettacolo per chi ama il calcio perché noi prima di tutto, caro Andrea siamo sportivi e siamo rispettosi delle altre compagini soprattutto se sono italiane poi caro Andrea ci sta il rovescio della medaglia perché sul primo secondo posto ce l'ha nominata fin da prima dei Juventus Dinamo Zaccaria a questo punto essere arrivati i primi è convenuto Andrea qualcuno addirittura diceva perdete la partita in casa con la Dinamo senza fannomi, tipo Pistocchi comunque, comunque, allora caro Marcello noi ti salutiamo Andrea lo rivedremo adesso il 22 di febbraio quando vi manderemo la nostra preview consueta se ci sarà qualche occasione sarà sempre qui presente ovviamente la Champions per noi continua vi rimandiamo alla preview di Porto Juve e ovviamente, come sempre, fino alla fine VAMOS JUVE!